Il disastro ha proporzioni enormi, il numero degli sfollati è cresciuto, la ricognizione degli edifici lesionati prosegue senza soste e intanto nella notte la terra ha ripreso a tremare. Sono stati sei terremoti in zona Etna, cinque a Zafferano Etnea e uno a Milo. Quello di maggiore energia a magnitudo 2.0 è avvenuto alle 3.41, sempre nel territorio del comune zafferanese. Nel complesso i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un notevole abbassamento dell'attività sismica sul vulcano. Non risultano infatti nuovi danni a cose o persone. Inoltre i valori del tremore dei condotti interni del vulcano, che segnalano l'energia del magma in risalita, sono ulteriormente calati, attestandosi su dati quasi rientranti nella norma. È cresciuto intanto il numero degli sfollati, nonostante molte persone rimaste senza casa, continuino a rifiutare la sistemazione in albergo, puntando sull'accognenza da parte di amici e parenti. Ieri Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno invitato le persone rimaste senza casa a recarsi a trascorrere almeno la notte, vista anche le fredde condizioni climatiche, negli hotele di Federalberghi, che hanno firmato la convenzione con la regione siciliana. Sul versante delle eruzioni risulta in diminuzione la fase effusiva, con la lava ferma nella desertica valle del Bove. Resta invece ancora presente l'attività strommoliana da crateri e bocche sommitali, con esplosioni ed emissione di una vistosa colonna di gas e cenere lavica. Resta operativo l'aeroporto di Fontana Rossa. Poco fa intanto il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di calamità. Ora nel dettaglio si attende l'emanazione dell'ordinanza di protezione civile.